Gradara Contemporanea è la seconda manifestazione che facciamo nel Borgo di Gradara, appunto dal titolo si capisce che è una manifestazione di arte contemporanea e quest'anno, a differenza dello scorso anno, abbiamo anche una sede prestigiosa che il Comune ci ha concesso, che è Palazzo Rubini-Vesin, dove appunto esporremo le opere principali della mostra e come lo scorso anno sarà una mostra diffusa nel Borgo e quindi oltre a Palazzo Rubini-Visin avremo un'altra sede al conventino di Gradara e anche nella suggestiva chiesa del convento e poi a Emporio la loggia. A differenza dello scorso anno, quest'anno il taglio che abbiamo dato è internazionale, infatti l'opera che è nel manifesto di un'artista che si divide fra la Corea e Londra e che ha fatto mostre anche importanti musei e gallerie prestigiose perché appunto, memori del successo dell'anno scorso, abbiamo voluto alzare ancora di più il livello per far sì che Gradara sia ancora più attrattiva per i visitatori. Importante sottolineare che anche per quest'anno manteniamo la gratuità della mostra, nonostante l'alto livello delle opere che esponiamo e questo è possibile grazie al contributo grandissimo che ci dà sempre il Comune come sale di allestimento e la Regione e la Provincia con il supporto che ci sta dando in questi due anni. Seconda edizione di Gradara Contemporanea, ci tengo prima di tutto a ringraziare Matteo e Fabrizio, i cofondatori di questa iniziativa importante che lega il nostro territorio, il nostro borgo storico all'arte contemporanea. È un connubio che è partito diversi anni fa proprio dal Comune con Gadara Nova, la nostra partecipata, con il Presidente Andrea De Crescentini che all'epoca ideò e realizzò diverse mostre dedicate a artisti contemporanei, Picasso, Dalì, Rosenberg, fino ad arrivare a questo connubio, a questo soldalizio intellettuale ma anche sentimentale con Elio Ferrucci, importante stilista e innovatore. Quindi per noi è un percorso già avviato e siamo contenti di rafforzarlo, di continuare verso nuove direzioni in questa collaborazione che non solo offre questa dicotomia antico e contemporaneo ma anche pubblico e privato perché il Comune in questo caso collabora come può dando gli spazi e supporto logistico a questa iniziativa che è privata.